Io mi aspettavo abbastanza di vincere, non all'inizio, però durante il percorso l'ho capito che ero avviato verso una probabile vittoria. Io non saprei rispondere, è bello, gratificante, vorrei dire qualcosa di più magniloquente ma non mi viene nulla, è gratificante. Ma no, penso che il mio percorso sia stato preciso e coerente. Sì, credo che un mar abbia sempre azzeccato ogni assegnazione. Mi sento molto più consapevole rispetto alle audizioni. Sì, credo che mi convenga prendere qualche lezione di canto, giusto per sapermi gestire la voce, ma non è che devo cantare nella vita. Sì, credo che mi convenga prendere qualche lezione di canto, giusto per sapermi gestire la voce,